Buongiorno o buona giornata? Buonasera o buona serata? Buongiorno e buonasera, buona giornata e buona serata sono tutti saluti italiani. Vediamo come usarli correttamente. Buongiorno e buonasera si usano per salutare una persona o un gruppo di persone all'inizio o alla fine di un incontro. Buongiorno Antonio, come sta? Buongiorno Carlo, sto bene, grazie. Carlo e Antonio usano buongiorno all'inizio del loro incontro. A domani Antonio, buongiorno. Sì, a domani Carlo, buongiorno. Carlo e Antonio usano buongiorno anche alla fine del loro incontro. Buonasera signori, ben arrivati. Buonasera dottore. Il dottore e i signori dicono buonasera all'inizio del loro incontro. Signori, ci vediamo tra una settimana. Buonasera. D'accordo dottore, buonasera. Il dottore e i signori usano buonasera anche alla fine del loro incontro. Buona giornata e buona serata si usano per salutare una persona o un gruppo di persone, ma solo alla fine di un incontro. A presto Marco, buona giornata. Grazie Rita, anche a te. Rita e Marco usano buona giornata solo alla fine del loro incontro. E' stato un piacere incontrarvi. Buona serata. Grazie, buona serata anche a voi. I signori usano buona serata solo alla fine del loro incontro. Buona giornata e buona serata. Sono un po' più di un saluto. Stiamo augurando alla persona che lasciamo di continuare bene la giornata o la serata. Ricapitoliamo. Usiamo buongiorno o buonasera per salutare una o più persone sia all'inizio sia alla fine di un incontro. Usiamo buona giornata o buona serata per salutare una o più persone ma solo alla fine di un incontro. Buona giornata. Grazie.